Per la prima volta il Golden Gala Pietro Mennea, evento internazionale di atletica leggera che si svolge annualmente allo Stadio Olimpico di Roma, si svolgerà a Firenze allo Stadio per l'Atletica Ridolfi, la sera del prossimo 10 giugno. Il programma dell'evento è stato presentato nella sede della Presidenza regionale. Alla manifestazione saranno ammessi mille tifosi in presenza. Ma io ritengo che la ripartenza passa da tante iniziative e lo sport deve avere un ruolo centrale. E quale sport se non la regina dell'atletica? Nell'anno olimpico sappiamo che l'atletica leggera diventa riferimento per tutta la popolazione nell'anno delle Olimpiadi. Sarà una bellissima e importante rappresentanza dei nostri migliori atleti. E se mi permettete, dopo la Coppa Europa o l'European Championship Team, credo che se lo meritassero anche i nostri ragazzi di poter essere in gran numero. Perché c'è ancora per qualcuno da rincorrere nel sogno olimpico. Il Golden Gala c'è un'occasione stupenda. Quest'anno verrà fatta a Firenze. Quindi veramente è una cosa che mi ha dato tanta carica. Già ce ne ho tanta, però questa presenza mi ha fatto proprio riprendermi. Perché sono stato molto male. Però appena veramente ho saputo del Golden Gala è proprio scattata una scintilla dentro. E adesso non vedo l'ora di poter lanciare giovedì. Finalmente abbiamo questa opportunità e faremo bene. Perché ci sono poche gare prima delle Olimpiadi. Allora sicuramente, come ho visto, è quasi un finale. Però sarà una bella gara sicuramente. Sul sito della Diamond League, nella sezione Golden Gala, tutti i nomi illustri che parteciperanno alla gara per ogni categoria. Allora sicuramente, come ho visto.